ciao a tutti e bentornati in questo nuovissimo video di nero corvino in questo canale abbiamo parlato di tutto abbiamo parlato di idratazione di decolorazione di oli di erbe di enne di tantissimi argomenti e chiaramente non può mancare il tema della ristrutturazione del capello porsi la domanda ma ristrutturare il capello è possibile e soprattutto cosa si intende per ricostruzione per ricostruzione noi intendiamo sostanzialmente una procedura che viene chiamata anche proteinizzazione ed è quella fase in cui vengono applicate tutta una serie di sostanze che devono andare a rinforzare la struttura del capello attenzione però il termine ristrutturare è un termine un po click bait perché ci può dare la speranza che si possa riparare un qualsiasi danno importante attraverso quello che è l'impiego di impacchi topici cosa che come vedremo non è possibile infatti un capello rovinato un capello che ha la parte del fusto intaccata non può essere riparato in alcun modo il perché ve lo lascio qui in alto nella bandina linkandovi dei video che ho fatto riguardo a questo argomento ma per rispolverare un po gli argomenti dobbiamo pensare ai ponti di disolfuro ai cosiddetti ponti forti legami forti che sono proprio questi ad essere rovinati e nel momento in cui vengono intaccati si compromettono anche i cosiddetti ponti deboli che sono dei ponti ad idrogeno la cui esistenza invece permette al capello di rimanere idratato infatti i ponti deboli diversamente invece dai ponti forti vanno a modificarsi ogni qual volta noi utilizziamo ad esempio del calore quindi dei mezzi di styling per acconciare asciugare i nostri capelli vanno a risanarsi quando invece il capello entra a contatto con l'acqua quindi ad esempio quando noi piastriamo i capelli poi usciamo e c'è umidità in giro nell'aria nostri capelli si gonfiano cosa vuol dire vuol dire che sostanzialmente assorbono l'acqua che è presente nell'aria diciamo che il ponte debole va a smontarsi ea ricostruirsi molto più facilmente rispetto ai ponti forti infatti noi possiamo modificare la forma dei nostri capelli diciamo con facilità quindi utilizzando una piasta utilizzando una riccia capelli e poi quando laviamo la nostra chioma i capelli ritornano ad avere la loro forma originaria è bene dire che se manca l'acqua nei nostri capelli e questa manca per un bel po' di tempo perché non viene risanato quello che è magari uno status di disidratazione si va incontro ad una importantissima disidratazione del capello che quando diventa potremmo dire cronica è molto difficile da da ripristinare quindi da recuperare però comunque ha un margine di recupero la destrutturazione invece diciamo che potremmo dire che è permanente e questo capita quando i ponti stabili vengono ad alterarsi un capello destrutturato si presenta secco non riesce a restare idratato proprio perché le cuticole del capello sono state anch'esse intaccate dovete immaginarvi come la cuticole del capello come tutta bucherellata quindi come se appunto avesse dei buchi e il capello non fosse proprio ben coeso il fenomeno della destrutturazione è un fenomeno che può insorgere molto più facilmente se utilizzate tutta una serie di mezzi che a lunga andare la possono provocare ad esempio è molto più facile che voi possiate incorrere in un fenomeno di destrutturazione se utilizzate i siliconi ho fatto un video al riguardo su questo argomento lo lascio linkato qui in alto nella bandina se magari lo volete recuperare è un video magari che visivamente non è bellissimo mi rendo conto ho avuto anche qualche problema tecnico con la videocamera dell'epoca però è un video che a livello contenutistico è ben fatto potete veramente imparare qualcosa riguardo ai siliconi che poi nel nella scelta anche dei prodotti della routine è molto utile quindi al massimo lo potete ascoltare a modi podcast se vi dà fastidio questa messa a fuoco continua della videocamera il capello fragile il capello debole è un capello che non resiste agli stress stress intesi come torsione come ad esempio spazzolare i capelli come anche intrecciarli o magari tirarli in avvertita mente è un capello che si spezza molto facilmente non resta nella sua forma originale ma si smonta i capelli appaiono opachi appaiono spenti hanno un aspetto duro un aspetto secco e molto spesso vi sarà sicuramente capitato quando li pettinate vi rimangono dei pezzettini dei segmenti di capelli sulle spalle o comunque addosso sugli indumenti sulla spazzola o ad esempio capita che se facciate così perniate una ciocca e facciate così tirandola verso il basso con con forza vi restino in mano tutti i pezzettini di capelli ecco questo è un chiaro sintomo di destrutturazione il danno da destrutturazione e quindi quello più grave è diciamo che è irreversibile una volta distrutti questi legami forti non possono essere ricreati cos'è che causa principalmente la destrutturazione beh ecco diciamo che sul podio troviamo i trattamenti chimici che proprio hanno lo scopo di modificare quella che la forma originale del nostro capello ad esempio la stiratura chimica ad esempio la permanente quindi vanno a modificare proprio la forma del capello proprio perché vanno ad agire su quella che è la struttura dei ponti di disolfuro nel nostro fusto e quindi li smontano e li rimontano chimicamente in un'altra posizione quindi infatti se voi fate una permanente per dire potete scegliere anche l'entità del riccio la grandezza la consistenza del riccio proprio perché la sostanza che viene impiegata per questi tipi di trattamenti va posizionata sul capello e il capello va messo in posa in un determinato modo affinché poi possa agire sui ponti di disolfuro e montarli nuovamente in un'altra posizione ora questo montare smontare non è una cosa per la quale il capello è abituato cioè non è geneticamente programmato per essere montato e tra l'altro questo crea anche secchezza disidratazione insomma rovina tutto un sistema tricologico del fusto in secondo luogo ci sono sicuramente le decolorazioni ne abbiamo parlato ampiamente in questo video che vi lascio linkato qua in alto ma anche le tinte sintetiche non sono da meno sicuramente anche l'impiego di mezzi per lo styling quindi ad esempio la piastra il phon utilizzato malamente il ferro riccia capelli insomma tutta una serie di strumenti che vengono utilizzati con l'impiego di calore ma anche i danni che ad esempio sono provocati dall'esposizione al sole quando voi ad esempio andate al mare in estate e dopo una stagione estiva vedete che i vostri capelli sono biondi o comunque diciamo che hanno un colore più chiaro rispetto al vostro colore naturale ecco non gioite perché questo vuol dire che vostri capelli si sono destrutturati cioè si rovina quella che la cheratina viene lasciata andare quella che la melanina attraverso appunto questo processo di potremmo dire deproteinizzazione sostanzialmente il capello sbiadisce ci sono anche tutta una serie di danni che vengono ad esempio apportati dall'acqua della piscina quindi dall'acqua che contiene cloro ma anche una disidratazione eccessiva e continuativa dei fusti porta a destrutturazione come ad esempio anche i lavaggi troppo frequenti come ad esempio e il pettinarli in modo molto molto duro molto diciamo senza cura e anche piastrarli quindi cambiare troppo spesso quella che è la forma dei capelli chiaramente è una condizione che non può essere recuperata al cento per cento però si può creare un rinforzo attorno al nostro capello questa corazza che noi possiamo mettere attorno al nostro capello danneggiato diciamo che può proteggere da quelli che possono essere dei futuri danni a patto però che mettiamo in pratica tutta una serie di metodi per poter evitare che il danno progredisca ma non dimenticatevi che purtroppo per quanto riguarda la destrutturazione il miglior amico sono sempre le forbici possiamo fare qualcosa per tamponare per riempire i buchi però dovete cercare quantomeno di non tralasciare quella che è una routine non dico riparativa ma quantomeno una routine che possa permettervi di mantenere il capello in uno status accettabile almeno uno status che non mi costringa a tagliarlo anche perché un capello destrutturato non è un capello elastico ogni volta che voi ad esempio lo piastrerete o lo spazzolerete malamente questo si spezzerà e quando il capello si spezza la chioma complessivamente si svuota man mano che scendete voi vedete proprio che le lunghezze cominciano a svuotarsi e questo è veramente un peccato c'è questo che vi costringe a tagliare proprio perché la chioma a livello di aspetto non è piacevole quello che posso consigliarvi è sicuramente di se non volete tagliare utilizzare quindi gli impacchi di strutturanti e come lo potete fare allora innanzitutto prima di fare degli impacchi proteinizzanti assicuratevi un buon livello di idratazione io lo dico sempre ragazze la prima cosa da fare è idratare i capelli dare acqua impacchi idratanti con gel naturali qualsiasi gel voi preferiate e poi ovviamente non fatevi mai mancare il live in ho fatto un video ve lo lascio qui in alto nella bandina in cui vi faccio vedere come lo faccio come va fatto e rispondo a tutte le domande inerenti proprio al live in affinché si possa fare in modo corretto le sostanze proteinizzanti che voi potete utilizzare sono le proteine quindi ad esempio la fitocheratina le proteine della seta e quant'altro che potete aggiungere ai vostri impacchi le uova soprattutto il tuorlo d'uovo la farina di ceci che tende proprio ad indurire il capello infatti le persone che hanno capelli iper cheratinici non dovrebbero utilizzarla così spesso proprio perché i loro capelli diventano dei tronchi d'albero anzi dovrebbero o addizionarla con delle polveri che ammorbidiscono un po come ad esempio il sidr montato magari a neve letteralmente con del gel di semilino e poi chiaramente usarla non tanto spesso proprio perché la farina di ceci veramente è molto proteinizzante ovviamente la lausonia e le erbette vanno benissimo la lausonia avvolge il capello lo riveste lo filma lo spessisce fa strato quindi voi dovete usare le ne dovete fare le ne io capisco che il colore rosso delle ne non piace a tutte capisco che chiaramente ognuno ha i propri standard però quantomeno cercate di impiegarla almeno se volete correggere poi il colore cercate di utilizzare poi delle erbette magari che facciano virare il colore verso quello che voi desiderate quindi ad esempio se volete un colore nero potete utilizzare l'indigo o se volete un castano un cioccolato potete utilizzare il catam o comunque delle altre erbette come il mallo di noce ad esempio insieme alla lausonia quindi per smorzare quelli che sono i riflessi rossi ma quantomeno ecco usufruire delle proprietà proteinizzanti della lausonia quindi la lausonia dico a parte il colore è veramente forse la pianta migliore che voi potete utilizzare per i vostri capelli quindi cercate di di inserirla comunque e poi anche il gel di catira è abbastanza utile in questo senso perché da una parte idrata proprio perché un gel idratante e dall'altra invece di struttura allora diciamo che la modalità ottimale ad esempio per impiegare quella che la fito cheratina e quella di creare uno spruzzino uno spruzzino che voi andrete a poi nebulizzare sui vostri capelli ovviamente questo potrà essere utilizzato come live in però mi raccomando non eccedete e soprattutto non utilizzate la fito cheratina se ad esempio non avete i capelli rovinati perché comunque sono composti molto proteinizzanti e potrebbero indurire troppo i vostri capelli addirittura poter creare dei danni qui di lato vi lascio una piccola ricettina con delle quantità quindi in questa maniera potrete muovervi se volete acquistare questa sostanza lo spruzzino che creerete si mantiene per diversi giorni in frigorifero diciamo che non contenendo dei conservanti e diciamo potete utilizzarlo per circa una settimana anche per questo la ricetta che vedete qui in questa parte dello schermo prevede soltanto 100 grammi comunque di soluzione se invece volete preparare una quantità più elevata potete utilizzare un conservante naturale tenendo sempre la cheratina all'1 per cento in questa maniera potete conservarlo per più tempo quindi questo vale per la fito cheratina o comunque per la cheratina per quanto riguarda gli impacchi l'impacco va fatto a capelli puliti quindi dopo che voi avete fatto lo shampoo e prima di fare il risciacquo acido seguite le regole che vengono per l'impacco idratante quindi fate la vostra miscela la distribuite sui vostri capelli tenete in posa minimo mezz'ora e poi andate a risciacquare senza però ripetere lo shampoo mi raccomando ovviamente il tutto coperto da una pellicola perché la diciamo la sostanza che voi applicate non deve asciugarsi questo vale per tutti gli impacchi potete anche effettuare dei lavaggi ad esempio dei lavaggi alternativi utilizzando la farina di ceci può essere anche addizionata con il sidre ad esempio è un ottimo composto io lo utilizzavo in passato e mi trovavo veramente benissimo oppure potete proprio fare farina di ceci e tuorlo d'uovo da tenere però in posa un po di tempo circa un'oretta più o meno e poi sempre risciacquare senza utilizzo di altro shampoo quante volte fare gli impacchi ristrutturanti se con l'impacco idratante si può essere un po più flessibili per l'impacco ristrutturante bisogna stare un po attenti se i vostri capelli sono particolarmente rovinati io posso consigliarvi di fare un impacco circa una volta al mese in generale diciamo che sarebbe meglio non farne più di due sono sostanze che conferiscono veramente un apporto proteico importante e i vostri capelli potrebbero avere un effetto contrario potete invece utilizzare in modo un po più frequente la lausonia ad esempio per quelle persone che fanno l'enne la lausonia in realtà la potete fare più volte poi dipende tutto dai vostri capelli ovviamente queste attenzioni queste tempistiche non valgono per gli impacchi idratanti che potete farli quando volete niente ragazze il nostro video si conclude qui io spero di essere stata chiara spero di avervi aiutato con questo video vi ringrazio tantissimo per essere state qui con me e noi ci vediamo prestissimo ad un nuovo video ciao 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 ciao